Che cosa hai fatto? C'è il caos lassù! Non dovevi fermare Shen! Già! Ragazzi, avanti! Un pizzico di fiducia! Io l'ho fatto fuggire apposta, perché... era un trucco, era un piano! Ho pensato... io scoprirò il suo piano, di più. Tutto questo non ha senso. Come, come? Certo che lo ha! Oh, la verità! Avevi Shen. Che è successo? Di che parli? Che... io non so di che parli. Eh, sì, io mi accolto alla sprovvista. La verità. Bene. Con loro sarai lontano dal pericolo. Molto lontano. Cosa? Tu resti qui. F-ferma! Io devo tor- Tu resti qui! Io vado. E tu non puoi fermarmi. Oh! Oh! Va bene. Non ero pronto stavolta. Ragazzi, no. Pronta. Wow! Guarda là! Resta a terra. Io devo andare da lui. Allora dimmi perché. Lui era lì. Lui era lì. Va bene? Il pavone era lì l'ultima volta che ho visto i miei genitori. Lui sa che è successo. Da dove sono venuto. Chi sono davvero. Senti, io vado. Io devo sapere. Chi è tosto tosto non può capire. Tigre, no! Chi è tosto tosto capisce. Ma non posso vedere ammazzare il mio amico. Andiamo. Ehi, forse non puoi vedere me ammazzato? Non fare il mollusco. Ed è tornata. No. Buono, piccolo. Stai meglio qui.